Buon Dio Oggi, ragazzi, inizia la scalata Siete carichi Io molto Andiamo a fare colazione Sapete, ragazzi, cosa non deve mai mancare nella colazione del troll? Beh, ovviamente, la Nutella E anche un buon caffè Dovete sapere che ieri mi è arrivata la 100 Mega Questo è lo speed test Che però siamo con il Wi-Fi lontani dal modem Vedete, il download sembra praticamente uguale In realtà, fidatevi, con l'Ethernet Sta arrivando anche a 76, 78 Mentre l'upload 19 Quindi c'è streaming in full HD, ragazzi Vabbè, diciamo che non pensavo pervesse così tanto con il Wi-Fi Però a me non mi frega un cazzo, sinceramente, il Wi-Fi Mi interessa che con il cavo riesca ad ottenere degli ottimi risultati Infatti arriviamo... non ha ancora 80 Ma magari perché me l'ha messa da poco, capito? Poi considerando che in realtà la cabina è veramente lontana da casa mia Cioè, stiamo parlando di qualche centinaia di metri Quindi, insomma, ci sta che mi arrivino 78 Mega Non potevo di certo aspettare che me ne arrivassero 99, ecco Vabbò, dai! Andiamo a registrare Autofill activated, è un incubo per me Vabbè, ieri in stream ho fatto una partita Ero top Hanno doggiato Autofillato Ok, dico, va bene, prendo Leona The last pick ci dice Prendimi Twitch Che non è bannato Va bene, tutto contento Glielo prendo Lei prende Leona Arriva alla fine E non swap Ah, sorry IDC Sorry, sorry Alla fine ero Twitch Con il Bond of Stone Rune full tank Armor e basta E ho finito 7-10 se non sbaglio Ho fatto anche kill Stranissimo Eh, non si sa come Riven top invece ha fatto 0-8 Ovviamente Tipical Riven player Aspetta, c'è la campagna dei like e dei commenti Perché Ah, va bene, va bene Avrei sentito ovviamente che hanno introdotto in YouTube Ho sentito, ho sentito Che, mo' devi commentare, mettere like Allora ragazzi Per il ritorno della scalata Vorrei almeno Mille like e mille commenti Adesso si inizia a chiedere Direi anche mille commenti Ma insegniamoli noi cosa bisogna bannare Oh! Banno di Taric Primo episodio da scalata Ha scritto no Banno Rengar please Guarda che sono tentatissimo Potrei dire Oh sorry Hai detto Sì Potrebbe essere l'unico champ Che sa giocare Rispargo È vero Banno a Singed Bannalo Singed è vero Singed Poi ce lo troviamo su portoconto E ci distrugge Ma che bei ban Yasuo, Taric, Singed Probabilmente il mid laner Ha bannato Yasuo Per non averlo in top No perché sai Viene un top laner Con l'ex host Già capisci che gioca Yasuo e Riven Quindi L'handicap mentale Proprio Voglio vedere Stato planer con l'ex host Cosa picca Aspetta Sarà un Kennen Io dico Gangplank Secondo me Fk 5 4 3 2 1 E invece Oddio Ha piccato Gangplank Quelli che tengono l'ex host Giocano quei champion lì È vero È fisso E se giochi Yasuo Riven Gangplank Sti champion qua Devi giocare l'ex host Altrimenti non sei felice Perché coltile poti Non ce la fai E vincere l'1v1 Capito Sei handicappato E allora di giocare Gangplank top Con l'ex host Vado sai che quell'ex host Finirà sul clone di Wukong Vero? Non è un vero game Di League of Legends Ormai Senza un Lee Sin Senza un Lee Sin Esatto Ho piccato un jungler utile Com'è possibile? Aspetta Non so se ti è caricato Però vorrei far notare Che quel Wukong Si chiama Monkey King 90 Vabbè alla fin dei conti Orianna Meade ha deciso Per qualche scuro motivo Di piccare l'Ignite Non mi è molto chiaro Ma nemmeno Velcoz Mi è molto chiaro Perché ha piccato l'Ignite Se Giovanni col Thunder Allora dobbiamo già Iniziare a preoccuparci Questo certo Yangen O Langen Non so Io penso sia Yangen 96 Mi ha scritto Video Punto di domanda Se sì salutami Impone anche le leggi Come si permette Vai vai saluta Saluta Va bene saluta Yangen 96 O Langen Sorry se lo pronuncio male Tu sai quanti commenti Ci arriveranno Ma è bene Bene Per arrivare Per arrivare a mille commenti Adesso ragazzi Avete un buon protesto Perché io potrei Potrei anche salutarvi Cioè ci avete pensato Quindi Night V Con XD Se exhaust gang XD lol I won't push Ha detto I won't push Va bene Non farlo È la cosa che farà per primo E si vede che non guarda i miei video Io avrei preso ovviamente L'item dei soldi La scuola dei fieri Che ragazzi insegna Che l'item dei soldi È worth su chiunque Infatti guardate Che cos'ho adesso Maury Qual è il mio oggetto Qual è la sua L'item che fa fare i soldi Passivamente E attivamente Con attacchi nemici Quindi Esatto Più soldi di questo Davvero Anderloxage Wow Diselo And ignite velcos XD Ma diselo Ma si rendi conto Cosa ha piccato Passerà qualcuno Dai Oh Mamma Eh non si aspettava Oh Non la preso Mi dispiace Non è fatto il range Maury perché sono all'uno Che sono sempre stato qua Bella World Hai visto? Mamma mia Ma chi ti ha insegnato Così bene Ho imparato da Imi Qtpie Non da canelupo Sorry Daniele Sorry 135 I danni aumentano Ho visto un bel po' di danni Dai guarda Mamma mia Aspetta un attimo Occhio Occhio Cosa fai Eh scusa Scusa Chiedo scudo Ma dai ma non si è mosso Non dodgiano Guardalo 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 Preso Guarda gli nevi Non provarci Mamma se lo prendevi Madonna Quanto era morto se lo prendevo Sì si ha Ha flashato di tight Bellissima E come davo che il tuo Sono quello che fa danni Ragazzi A PC Non sa Porta avviabile Mi sa che prenderò il morello Sai Cosa fanno in top Cosa fanno Nino Eh hanno fightato a casa Sto notando Quel flash lì Devo mettere Oh attenzione Per l'altro Eh vabbè Che l'ha semplicemente avvicinato Sì Sono semplicemente Non ho niente Guardare gli altri Far schifo Succedono queste cose ragazzi Non guardate gli altri Beh ora ulti E quindi sono al 4 Aspetta Madonna Boom Ma che Esploso Mari L'ho zonato Fagli danno Ho fissato lei Vai vai No clear io Tu continui ad attaccare la torre Vai tranquillo Fatto Eh vabbè ma allora C'è un pezzo di Oh vado 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 Picchia 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 Go 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 Ah ragazzi Per chi si lo stia chiedendo Attualmente sono ancora A bronzo 3 So che la scalata è il silver Ma non ho avuto il tempo Per fare il Donna il platino Il silver E quindi la scalata parte da bronzo 3 Oddio lo stavo guardando Co stai facendo Lo stavo guardando Oh 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 Arrivo 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 Mi sto mettendo in posizione Per Mamma mia Salve Mamma mia la combo Ecco la tua kill Hai notato i danni Uccidibile Aspetta per qualche Cos'è il motivo si sta allontanando Ok Ma ori unstoppable Cosa che non capita mai nei miei video Per qualche strano motivo Niente E anche nei miei stream Oh cazzo È partito È partito Il muro Eh eh Ah Ricorda cannelupo Just red click and ult and I die It's not Ma cosa sta dicendo quello Ragazzi cosa avevo detto in time select Cosa avevo detto in time select Chi piccava GP con l'ex host in top lane Era cosa? Un ritardato Guarda Rengar Guarda Rengar Attenzione Usa la doppia Bravo Oddio Oddio FK Uccidiamola È un momento Bravo E porti Sessioni please Perché hai crashato Sì Non può crashare Hai ragione anche te Oh oh guarda chi c'è lì Guarda chi c'è lì Vieni 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 Eh no la torre la voglia Aspetta Va bene tu prendi quella Io prendo lui Partito È esploso Investito Oh quelli mid Quelli mid Tutti top Che ne andiamo mid Esploso Ma esploso Hai visto Top top Perché Gangplank è sempre qua Vai a difendere la tua top lane Non fa un cazzo Full vita Va back Cosa fa quello Madonna È il limite dell'incredibile Questo Gangplank God God Oh guarda quello Guarda 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 Che danni sono Mori E non ho nemmeno procato la E Mamma mia Io sono quello con più kill Sia una p-support E come è facile Che lui Grazie Mauro Più efficiente di Nuovo traduttore L'ho presa Bravo Oddio Cosa fai? Dove va? Ragazzi vado impazzito Vabbè preso la kill Il suo coso È worth È worth È worth L'hai presa Oh 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 È partito Vuuuuh E farei una brutta fine Brand Ciao Dai Il mio one shot Questo Me l'ha rovinato Me l'hanno rovinato No no Se servisse anche Oh che cazzo Rivi Ma dai ma Io proporrei di inviare Una lettera alla Riot Per aumentare il range Dell'ID Sion Di uno Boom No Volo one shottarlo io Cazzo Eh tu muori Però mi sa Ma non riesco a fare nulla Eh non preoccuparti Fai troppe kill maori Basta Addio mondo Ciao ragazzi Arrivederci Scherzavo Scherzo epico Finito male Maori scappa Rengar no Maori vai Usa il bloodlass Presto vai a farmare Cosa Ma se lo stilavo Ma se lo facevo È rimasto con 5 E' stata una bella provata Lo ammetto Maori È tempo del one shot Lo senti anche te Madonna Mamma mia Boom Bam Ignite è morto Eh sì Sì attacca pure Come cazzo li ho shottati Maori Come cazzo li ho shottati È devastante Sì una P Gangplank Vendicati Vendicati È il tuo momento Bravo L'ha fatto L'ha fatto Madonna Adesso è fiero Cioè se vendica Oh che amava di arrivo Maiolo Scherzavo Addio maori Oh E lui Vendicami Vendicami Alla cieca Attenzione Oh Oh Ham Picchia picchia Madò Boom E tu Continua Pezzo di merda Guarda 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 Stiamo qua maori Qualcuno passerà dai Sì sì sicuramente È quella peggiore che doveva venire Ma che li tolgo Addio maori è stato bello comunque Triplo 7 di Rangar Oh Dark Polo Gang Di PG No Quanto corre Ma Oh mio Dio Marisci No No Rick Oh Mi ha risparmiato Ma è stupidissimo Da vera Vai che c'è Rangar Che sta lastitando Con un bravo Rangar Vai guarda lì Non riesco a vedere nulla Perché sono in ulti Però tranquilli Un esploso per Gin Ah ma sono arrivato Io erano tutti morti Sì Ok Meno male Ragazzi Mi stavo preoccupando Che poteste fare una cosa Worth Tutto le west Oh guarda qua È il true È il true È il true Questo 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 No Ah ciao Arrivederci Non che servisse molto Eh però Vabbè Gangplank è andato a Ha fatto schifo Ha flammato Si è lamentato Io non ho parole Più mi impegno Peggio vanno le cose È quello che ci meritiamo Maori Defit In effetti sì Top damage del team Davvero? Io sì Ragazzi spero che il primo episodio della nuova scalata vi sia piaciuto E ringrazio Maori per aver partecipato Raggiungiamo mille like e mille commenti per questo video E noi ci becchiamo al prossimo episodio Bella Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!